Marcello Danisi, presidente dell'Ordine dei commercialisti, e Gianvito Giannelli, ordinario di diritto commerciale all'Università di Bari, sono i due uomini che dovranno traghettare il baricalcio verso il futuro. La sezione fallimentare del Tribunale ha ammesso la società calcistica alla procedura fallimentare e ha nominato i due commercialisti come curatori. L'avvocato del Bari, Anna Gentile, ha discusso per circa tre quarti d'ora davanti al collegio, presieduto da Franco Lucafò. Nel pomeriggio la decisione con l'ok all'esercizio provvisorio, che di fatto garantisce la continuità aziendale e permette ai tifosi di continuare a sperare nella Serie B sempre che sia conquistata sul campo. I libri contabili in Tribunale erano stati portati solo nel fine settimana alla Camera di Consiglio e la decisione sono arrivati in tempi rapidissimi, proprio per evitare che la squadra cittadina scivolasse nelle retrovie del calcio. Il prossimo passo fondamentale sarà l'asta giudiziaria, dovrebbe essere fissata entro un paio di mesi. Grazie.